Spruzzini installati sul retro dei camion che raccolgono i rifiuti nei cassonetti. Durante gli spostamenti questi impianti rilascano una particolare sostanza non pericolosa che raccoglie ed elimina le polveri sottili sedimentate sugli asfalti delle strade della città. Questo è il progetto innovativo di ERA che presto prenderà piede in tutta Ferrara. In pratica l'idea è di nebulizzare questo prodotto a terra di modo tale da aggregare le particelle fini di particolato che si vanno a depositare sulle carreggiate. In pratica questo prodotto che è di origine naturale e non tossico né per l'uomo né per l'ambiente ha una capacità chelante e quindi aggrega le particelle fini fino a farle diventare degli aggregati di peso maggiore e dimensione di modo tale che non possono essere più sospese in aria. Inoltre ha un duplice effetto perché ha sia questo potere aggregante ma anche di degradare gli idrocarburi policiclici aromatici che sono dei composti dichiarati cancerogeni per l'uomo e che vengono emessi proprio dal settore del traffico e che si va a depositare sul particolato. Quindi questa soluzione aggrega e contemporaneamente degli enzimi vanno a degradare queste sostanze cancerogene disorbite su di esso. È un'attività all'interno di Airbrake, in particolare è un'azione per mitigare l'inquinamento e secondo il meccanismo con cui vi ho spiegato prima è un'altra innovazione di questa azione è spruzzare questo prodotto con i nostri mezzi di raccolta rifiuti. Infatti in questo modo evitiamo prima di tutto la messa in circolazione di ulteriori mezzi che comunque contribuirebbero all'inquinamento atmosferico. Non dobbiamo utilizzare mezzi specifici per fare questo trattamento e in più possiamo raggiungere le vie della città in modo capillare e questo si traduce anche in un abbattimento dei costi del trattamento. Il progetto rientra come detto in Airbrake, ma che cos'è? Airbrake è il primo progetto europeo candidato dall'attuale amministrazione. Presentato nel dicembre del 2019 e finanziato nel luglio del 2020 prevede delle azioni per 5 milioni di euro che sul territorio comunale intendono ambiziosamente abbattere l'inquinamento del 25% in alcune aree specifiche. Le linee di azione sono molte e tutte prevedono la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. Diciamo che tra i più vistosi si parla della piantumazione di circa 2.000 alberi con pericolari caratteristiche e qualità specifiche mangiasmog, l'attività di costruzione di una pista ciclabile smart che possa ricollegare alcuni punti strategici della città per favolire l'attività di pendolarismo e il movimento degli studenti facendo spostarli dalla zona di via Bologna al tecnopolo. Oltre a questo c'è il trattamento delle strade della città con particolari prodotti enzimatici che possono consentire di trattenere e fissare al suolo le polveri sottili e la creazione di smart hub, quindi delle zone specifiche dedicate per la ricarica di mezzi elettrici e la fornitura di collegamento internet wifi. Questi sono alcuni aspetti più macroscopici. Giovedì 6 è la prima occasione per poter sviluppare quello che è un'alleanza per l'aria, quindi cercheremo di coinvolgere e far partecipare al progetto tutte le realtà territoriali che abbiano interesse a migliorare la qualità dell'aria di Ferrara. Quindi si va dalle associazioni storicamente ambientaliste fino a quelle di nuova formazione, coinvolgendo anche tutto un partenariato ricco a livello anche delle attività produttive e industriali del nostro tessuto cittadino, per far sì che ognuno abbia voce in capitolo e possa intervenire e dare un contributo in questa attività che è uno sforzo collettivo e che quindi come tale deve prevedere il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la realtà locale ferrarese.